In questo Tekken 7, visto che stiamo facendo gli episodi personaggio, ora c'è la battaglia per la rivincita. Brian vuole vendicarsi e affrontare Bob. È arrivato il momento di decidere quale dei due può riavere la rivincita e conquistare la sua vendetta. Sembra che il nostro Brian è diventato ancora più forte di Bob. E ci riesce grazie al nostro aiuto. Abbiamo finito. Ora io vi saluto. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.